Torino è una città famosa non solo per i suoi grandi viali alberati, per i bellissimi palazzi, i musei e la vita notturna, ma anche per quartieri poco conosciuti, che sono però molto interessanti, perché? Perché sono pieni di stupendi murales. Qui ci troviamo vicino al Teatro Colosseo e possiamo ammirare i primi bellissimi murales. Qui a Torino sono presenti delle ingegnose installazioni. L'installazione che potete notare dietro di me è costituita da varie parti metalliche, ci sono parti di ingranaggi, parti di bici, addirittura un bidone e tutto va a costituire un bellissimo orso. Eccoci giunti nel quartiere Lingotto, dove possiamo ammirare degli stupendi murales. Passeggiando per la via possiamo trovare raffigurata tutta la storia di Pinocchio. Spero che questa camminata tra i luoghi insoliti di Torino e la sua street art vi sia piaciuta. Vi aspetto per la seconda parte.